il pezzo è bello dietro dietro fammi fare una prova che io guido e voi quattro mi spingese hai un muro davanti lo devi togliere con le mani togliere con i guanti togliere quel muro la paletta non la giuta no caro qua sotto io penso che la potete provare provaci Filippo dai non, non è non sto chiacciando non sto chiacciando non fa le mare accelera ah ma non gira proprio aspetta allora aspetta alza alza e posteriore alza e posteriore vai 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 no no vedi vedi stai inchiubmata stai inchiubmata un po' di fango qua davanti stai inchiubmata un po' di fango è inutile vedi la ruota non può girare perchè è piena è difficile pure buttarla a terra mangiandami la corda no vieni d'accordo vieni d'accordo vieni d'accordo vieni d'accordo pigi un pochino fannoci prima a me fannoci prima a me riuscite a tirarla un po' avanti passata sull'acqua andava 10 volte meglio vai ragazzi organizziamoci prima franck è il suo, metti di più qua come dall'altro lato fili manubri è qua 1 2 wow aglio è ingullato ti ho detto che io non riesco a scendere ai video lato, sei sicuro di questa vai giù, proviamo a buttare la terra da questo lato qua vediamo se si alza vai ecco aspetta io scavo aspetta figli vai spingi di nuovo aspetta aspetta scavo un po' muovo proprio il manubrio muovi l'anteriore tua con le mani muovi solo l'anteriore la gomma, muovi solo la gomma vai proprio con lato se sta piegata non gira il manubrio tu non giravi sempre le cordie a presto siamo alle 7 a 9 vedi se sta piegata vedi se sta piegata si 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 muovi un me mi si 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 un po' vado in mano penso che ce la dobbiamo tirare penso che ce la dobbiamo tirare o alzarlo o tirarlo non dire che stiamo appassionati l'unica cosa la puoi sull'occhio eh alzarla per appoggiarla per terra non riesco a pescare tanto che tu stai non vomitare qui l'attacco proviamo la proviamo a alzare la prende vabbè proviamo il posteriore o la alziamo il posteriore o la alziamo il posteriore il posteriore e con lo aiuto voglio dare una mano il posteriore 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 è allargato il posteriore 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 ma non ci va più dietro capisci quanto è dura quella parte là perfetto perfetto allora con faccia di qua uno di la e uno di qua dove vuoi che spingo? proviamo a mettere il pezzo di legno si spezza eh fraccio ma prego prima di assagaccio ci diamo? eh come fa? secondo me possiamo ipotizzare di mettere le pedre secondo me a muoverla così come siamo senza attrezzi non la muoviamo l'unica soluzione è mettere le pedre sotto e provare a accenderla e spingere no ma adesso la credi nanzi come oh fissa di sorda le mani chiamate allora prima è appesta una pantagna come un bambino se non c'è cammai l'argillo proprio ma mai la faccia a boccia che mi pare che sto aumentando perchè chi un bambino si combatta qua con gli uccelli non è più che è spinguto che è spinguto ora è una piccola non è più non è più non è più non mi facciamo accadda sotto stato non è più non è più fermata si è fermata io cerco di tenere il gas aperto e come ma non è di lui questa pittà che è ampione? accelera? 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 ma se non lo sapevo non arrivavo fin a casa hai capito? però io vedi che hai stato trovato un'insagine ma hai fatto? tu non ti aspetti neanche che là si fermi ma ti guarda che è bello capito? buona è così sono i copi i copi prego io prego sempre acqua e pietre sempre acqua e pietre anche se non vedo meglio acqua e pietre il problema è che non riusciamo neanche a metterle sotto secondo me i prezzi con legno ma si non faci manu forza si da, non ti arrui, te prezzi e cam asta a ruptat, non ti arrui, non ti arrui, non ti arrui ma ma... si ti arrui? e' da' finza, cazul e' de caperima, e' blocaza' cuciunea ma ci, va faci, va ma, se' e' proprio blocat, eh? ma ci, va faci, 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 va faci... ечci mamma mia lago ciao ma chiede da un poco chiede a ti che dai se gien mi rosa chiede a ti sognuno da rob e stiamo bloccati ma lutei sognuno è riuscita a scendere non sai perchè va con un freno? perchè è un metro guarda il caldo la moto è vicino ad un albero con una corda vicino ad una moto poi scavava va con un freno perchè è un metro un metro è la carizia arrivava la adesso non provate solo stanno messa di stanchi si ci prendiamo a manda l'acqua se facciamo un metro d'acqua eh pure la pietra davanti non è problema che la pancina sta piena se la puliamo prima non la puliamo prima tipo bicchieri ce l'abbiamo Sì Aspetta 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 ha fatto il video di Spinarvi Spinelli Spinelli un po' di piano ma deciso oh Filippo ma io due le cattici in parte ma io due le cattici perchè è in confusione Questa è la situazione, è stata solo ragionata Vedi dato che vedi il video mio che è stata stasera E poi vi dico quale non c'è la lanza Vedete che non si esce per scavare là? Un po' così, un po' Ma vai, un po' Si è radicato 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 un po' No, 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 non la vediamo E sei? Annazza stavo con più anni Si, stavate dentro Si è radicato un po' Proviamo a rimettere la dritta No, no, no Ma sembra questo gioco tu Ritorna là tu, no? Non è sabbia, è panca Ci vai la coppia Si è radicato un po' Se mettiamo invece un po' di pietre sotto la sua Sotto la ruota di dietro La proviamo a far girare Così c'è una struttura Così si accende la moto Ah, si, così si No, no, devi mettere prima dentro e poi la passi Così da piccino Metti la marcia Che sa? Grande, grande, bravo di salto Da dietro, da dietro Oh, ma mettici questa avanti alla ruta Non va avanti Non va avanti No, non va avanti No, non va avanti Scusami, train, train Si, ci vediamo la nuova Si Non ce la fai mai Trova, non ce la fai Non ce la fai, sei chiamata Quanto è lui Ma trova Ma la cosa, l'asfalto sta qua davanti La facciamo eh Se riusciamo a farla divertire Scusami Ok, no, veniva la sera No, veniva la sera No, veniva la sera No, veniva la sera Ma quanto vada la sera? Sì 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 Scusami Scusami vogliamo provare a spostare la ruota davanti vogliamo presto a provarci vediamo di spostare l'acqua la dobbiamo prendere tutti quanti dalla ruota prego mettiti qua tu 1 2 ma la tira sotto questa qua mettiamo la ruota davanti una accelera e gli altri tirano in balanza però mettiamola dritta accelera perchè così quando si rimette la butta fuori però la vi devi togliere perchè sennò arriva andata tutta la la cosa da quel lato lì stai in cittadina ma questo si sblocca ma si sblocca ma si sblocca ma si sblocca ma rimane a casa ma rimane a casa e viene a piena di uno ma andiamo a casa ma andiamo a casa ma andiamo a casa ma andiamo a casa la ria e ci vincita il pietra è entrambi è entrambi mettiamo la dritta accelerando però mettiamo la dritta però accelerando adesso guarda che comunque un po di spazio l'abbiamo ottenuto si davanti ci va adesso mettiti sopra e portala facciamo un po di passo a rimetterla dritta non passa con la prima la devo rimettere dritta si però accelera e lascia la funzione e poi lascia la funzione dai che la mano però un altro problema è il fotore che sta a terra e poi la viene troppo bassa e poi la viene troppo bassa anche in un po di tempo la venta è bello schiacciamola con i piedi facciamo una traiettoria con i piedi schiacciamola con i piedi se ci stiamo a mare ma non ti puoi venire con i piedi dalle altruzze andate già secondo me puliamo dietro difendiamo puliamo dietro è dove abbiamo più forza Ragazzi io non riesco a uscire Di l'arte Chi lo faccio e H mangi tutto Questo freddo non aiuta Ma dove andava TRK? Dove andava Ma pure Eugenio Con l'SRT EGITIO EGITIO L'SRT Comunque l'ho detto prima EGITIO Troppo EGITIO EGITIO Il problema è che ci sta il motore a terra, capito? E' un altro dei problemi. L'argillo in duro paramotore, no? Che stella dobbiamo riuscire a mettere? Proviamo a ributtarla di nuovo. Per terra, per terra. Vai, buttatela forte, forte, forte. Vai, vai. E' arrivata qua. E' arrivata qua. Riesco ad entrare sotto. Se non mi metterò una palla... Te spingete? Vieni, vieni. Ok, c'è entrato. Vai, vai. Muovala dove ti tirà, muovala dove ti tirà. Oh, dai, dai, dai. Aspie, aspie, aspie. Giallo, vai almeno col palla sulla ruota da avanti. Non la cina le spalle. Pigliala, pigliala. Uno, due, tre. Vai, vai. Aspie. Uno, due. Uno, due. Gianlu, eh. No, Gianlu, finci verso l'alto. Eh, verso l'alto, non da quell'alto. Allora, questa uscita è già una vittoria. La palla, c'è la palla. La palla, c'è la palla. Ci la buttava. Ne basta una, poi. Ma secondo me. Siamo al palla sotto alla ruota. C'è la palla. Una pietra, 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 pietra. Pietra, pietra, pietra. Pietra, 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 quelle piccole. Piacchino, pietra, pietra, pietra. Piacchino, pietra. Allora, non fai ammazzare. Piacchino, pietra. Se ne sono pure le pedaline che mi ha dato tutto. Piacchino, pietra, pietra. Piacchino, pietra. Piacchino, pietra, pietra. Piacchino, pietra. Piacchino, pietra. Piacchino, pietra. Ok. No, ma non ce lo devi fare tra niente No, ci metti questa sotto Per sicurezza Non va più giù, capito? Noi ce la devi mettere sotto Viense male Viense male Viense male Viense male Viense male No, però ragazza Ci sono persone che ridono E gli altri che fanno... Gli riti, gli vuoi mettere una mano Ma io devo fare un'altra Eh, lo so Devo fare un'altra A me, altrimenti non esce Questa è molto forte Si sta a fare un attacco però Io penso Oh, davvero va caracchissimo che si sta a fare la sincope Mentre ora è tutto pretanato Eh, sì No, ripeto, cammano la posteriore come... Eh, d'accazione Ma non se ne viene più così Perché stanno le pretanze E c'è un motore che fa... No, riesco a spizzare Se è tirato ce la facciamo Ma non ce la faccio da solo io, ragazzi No, guarda su Aiuto, la mano Eh, certo Giallo, io devo fare male Io devo fare male Uno, due Tre Uno, due Tre Niente Qua stanno giuando Perché non lo alziamo ora un po' Perché stanno giuando qua Non posso aprire la profondità in questo corso Come andai? Ale Mettete le pietre Mettete le pietre Ale Avanti Fai tipo una strada di pietre Se ora lo alziamo un po' che ci togliamo un poco di... E cerchiamo di... Eh, ma prima dobbiamo mettere le pietre sotto la ruota in modo che non riuscire Quell'anno la pasta è avanti No, Gigi perché si affassa subito Tantafana un metto di pietre Se l'alziamo... Ecco, Fili Se l'alziamo un po' E togliamo la trazione dei pedalini e delle cose da dentro Io ci afficca questo Secondo me non deve riparti da qua Ragazzi, scusate Ragazzi, scusate Ragazzi, scusate Se ora cerchiamo di alzarlo un po' Ecco, che va sulle pietre No, no Noi stiamo facendo... Per tirarla Questa si è inguato Per la linea non può far andare Se l'alziamo un po' E rimane un po' sulle pietre Senza fare niente Può da sti caroce non usci Eh, per alzarla Si fa uno strato di pietre Così che non puoi andare a coppia Capito? Non puoi andare a mezzo Sotto però sotto 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 però Tante pietre Eh, no, no Faccio vedere la pietre Che non è bene No, quella tra l'avanti Eh, che staccaggia va bene No, no, no Non ti staccaggia 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 Dai, facciamo un po' per ciascugio Non ti staccaggio, vai Tutto a ciascugio E' di solia E' perché buttato la ciascugio? No, no, no Non capisci non c'è Non capisci non c'è C'è la ciascugio No, non è mai andato Siamo a metterla Abbiamo tutta a mezzo Eh, questo stiamo cercando di fare Diciamo Noi che hai buttato le prediche Uno mesi Pingi verso il basso Perché tu non ce la faccio Chi pensi che esce qua? Uno Aspetta, aspetta Ale, Ale Stiamoci in posizione suona Ale, Ale La dobbiamo alzare un poco Perché sta Staccaggia Staccaggia Questa roba qua E non ti esce Questa roba qua Alziamola un po' Alziamola Ma la vuoi fare tornare niente? No, no No, dritta, dritta Perché qua c'è le pietre sotto Non ci va più Adesso lasciamo un po' che il pedalino Non si è affitto No, ci sta la pietra Perfetto Ma vabbè c'è la pietra Anche se sta comunque pieno Anche lì Però la pietra Lui se ci va sopra Non si afforcia più Vediamo Alza, provala Sì Eh sì Uno, due Ecco Ora c'è la pietra sotto Ora possiamo ruovare Secondo me poi riparto il pubblico Così eh Andiamo a provare a tirare avanti Guardi ora muovi No Proviamo a tirarcela Dove? E' solo fuori Ah Mettiamola dritta Che sta sulla cosa Ha ragione Gigi Perché questa Se ora la metti dritta Non la prendi No, no Non scende Non scende E' tostissimo Vai 2 euro Vai Alessa Metti in moto Aspetta 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 No, no Non la entra in moto Aspetta no, no Decidiamo prima cosa fare Mettila dritta Testa Aspetta Scusate Decidiamo prima e poi Nella facciamo No Ragazzi Proviamo una Alzaoletto E ora si parla Stando fuori R moderna Riuscimmo a tirare Sì Già noi si SiTERà E ora rispia Nasce Dritta Dritta ok questa si alza perché sta sulla pietra 1 2 3 ma fermati respira va bene 1 2 3 ecco qua era quello che volevo fare di noi 1 1 2 3 ok ora è l'ho un problema che si uscita? l'hanno abbassato l'hanno fatto da là e con qualcosa sotto se proviamo ad alzarla invece si si ad alzarla con le pietre con le mazze stai nei raggi no c'è a luci no scusate se proviamo scusate ragazzi eh no no non mi sembra se proviamo ora ad alzarla io farei un po' di leva io farei un po' di leva da sotto eh per alzare la ruota c'è 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 va bene va bene va bene va bene vai da qua dai 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 qua da qua dai qua di questa cazzo Gigi ma non fa le cose così forse così riusciamo ad andare davanti muoviamo la destra e sinistra piano e piano ok ora si è allargata ora butta la terra di nuovo no da sdraiata da sdraiata così non alzi nei muri non ce la fai Gigi ti stirpa solo del male uno stesso vai uno due tre e quello stiamo a girare tre ore ehi ma non le coni che questa era tutto da ripetere io la metto non sta là ahahahahah ma non no no si è farsi a queste cose io mi sono proprio che le protezioni ma quando mai se uno fa la pesa che lo sai con un palo là sotto ma se stavate come l'attarietto guardi come qua li dai sta a folle stava sta a folle stava già a folle si è accendita prima no la bisogna fare una volta con il palo con i pali sotto devo mettere una pietra sotto devi mettere una pietra dietro al palo come fai? dobbiamo mettere le pietre sotto la metti dritta comunque non affonda più è sempre lo stesso come abbiamo fatto qua bravo Gigi fai avanti e dietro avanti e dietro che il moto calessandro rientra alza 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 alziamolo proprio 1 2 3 unita è una aspera non fa carino aiutarci ma aspera è fai te è cadere è bloccato ma dire allora no 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 paura che il peggio guarda che le pietra qua in modo che non affonde il palè ma la stessa cosa al lato se invece proviamo a mattina all'interno il penno si che l'apri dai dai accassiamoci il carter che ne va bene almeno se la porta a casa ma non esce quella più grossa quella più avanti wow le mani sporche se invece proviamo a mattina all'interno mi sta mettendo il carter guardate no no andiamo a stare ne brava ma lui non parla noi non abbiamo nulla dentro che sono stato là. Ficciamocela lì. Proviamo, proviamo. Come tieni a mezz'anno? Ma prima teniamo, non se ha rete. Proviamo, proviamo. Proviamo, aiuto. Aiuto, lo parla, e ora pure non lo stai. Aspetta, aspetta, aspetta. No, no. Gino, uno. Aspetta, aspetta. Gino, va. Va di nuovo. Fanno i messi ai raggi. Si, ci voleva colpa a questo. Si, la si. Proviamo a provare a tirare. Indietro, Gino. Aspetta la spezza la stessa, capito? Uno, due, due. No, rigamma forte, però senza dare lo stratturamento forte. Uno, due. Aspetta, aspetta, aspetta. Gigi, proviamo a prendere dalle pedane. Dai, dai. Pare che viene, pare che viene. Uno, due. Uno, due, tre. Uno, due. E' l'aria. Mettiti qua nell'acqua. Tienalo qua nell'acqua. E' l'acqua nell'acqua. Uno, due. E' andata, e' andata, e' andata, e' andata. Vai ragazzi. Gira, gira, gira. No, no, no. Cacciaiato. Cacciaiato. Vai con calma, respira, riposati un attimo. D'altro, ormai c'ho cacciata. Prendi l'auto a destra. Prendici, professore. Se lo accocchi i pianti, io me ne passo. Aspetta, io ti tra mano quella regge. No, ma hai postato il petto. No, ce la fai. C'hai grip? Cioè, no, non hai grip perché? Un po' di merda questo sito. C'è chi non parte? Vai, dai, gira. Dentro, dentro. Chi dà la piccola? Gira, legate. Gira, legate. Vieni la pelata. Vai, 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 vai. Vai, vai. Ok, vai. Va bene, va bene. Ok. 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 Ok.